Di scuola e lavoro non si può morire, Lorenzo e Giuseppe vivono in noi. Intorno a questo slogan, scritto a terra in piazza Martiri a Teramo, si sono ritrovati centinaia di studenti degli istituti superiori teramani per ricordare due ragazzi come loro, che sono morti durante il tirocinio nell'alternanza scuola-lavoro. Manca la sicurezza durante queste esperienze lavorative, protestano i giovani. E poi cosa ci aspetta dopo? Solo precariato e pochi diritti. Il tema oggi è sicurezza sul lavoro, ma mi sembra che non ci sia né sicurezza né lavoro. No, il tema è la sicurezza sul lavoro, che si collega ovviamente alla sicurezza sulla scuola-lavoro, però anche il valore che la scuola-lavoro ha. Cioè noi abbiamo detto scuola-lavoro sì, ma non così. La scuola-lavoro potrebbe essere un'occasione per gli studenti e le studentesse di conoscere e scoprire il mondo e i luoghi del lavoro. E invece spesso ci si perde in percorsi inutili solo per raggiungere l'obiettivo di ora annuale. Quindi noi chiediamo una scuola-lavoro che insegni veramente qualcosa, che insegni a lavorare e che dia occasione agli studenti. La vostra preoccupazione è anche un futuro di lavoro precario? Certo, si sono visti i dati ultimi sul lavoro e il lavoro precario è sempre di più. E questo è sicuramente un grandissimo problema attuale, soprattutto per noi generazioni future che andremo a lavorare. Come abbiamo detto prima, chi non ha certezze è debole, quindi il lavoro stabile è fondamentale. Con la precarietà c'è sempre il ricatto di non essere confermati. E quindi anche quando magari si avanzano i diritti, le si avanza con timidezza, con riserva. Perché se c'è un contratto a termine o c'è comunque un'altra forma di precarietà e adesso ce le risparmiamo perché ne sono veramente troppe, significa che quel contratto in pratica sarà confermato solo se c'è in pratica la condivisione che è interessante per il datore di lavoro e basta. I diritti vanno da un'altra parte. Il mondo del lavoro si è indebolito nella capacità di rivendicare i propri diritti. C'è bisogno di una nuova alleanza tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione. Perché il mondo della formazione, dove loro oggi sono immersi, è da lì loro usciranno e troveranno questa precarietà. E' necessario invece oggi che lo riflettono, che ne rendano coscienza, consapevolezza, perché oggi se mettono in campo le opportune iniziative, le opportune mobilitazioni, possono cambiare quel mondo e quindi quel futuro potrebbe essere migliore anche per loro.